Il congresso insiste per bandire l'applicazione TikTok. La Cina dice siete dei bulli. L'applicazione TikTok è di proprietà di ByteDance ed è partecipata dal governo e dal partito comunista cinese. Quindi anch'io sono a favore del partito comunista cinese? No, sono a favore della libertà di manifestazione e di espressione. Perché se gli Stati Uniti impongono di bandire TikTok a meno che non venga ceduta l'applicazione ad altri paesi forse più vicini agli Stati Uniti e se Jake Sullivan, consigliere della sicurezza nazionale, invoca il pericolo che milioni di americani possano finire nelle mani della Cina, possono essere manipolati, possono essere spiati, mi sembra francamente di ritornare agli anni 50 nella caccia alle streghe, nella caccia al comunismo che ha imperversato in un'America piuttosto confusa in quel periodo. Ora, forse la questione è anche più commerciale, magari chiudendo TikTok si agevolano altre applicazioni, magari statunitense, che potrebbero convogliare tutti quei consensi, tutte quelle persone interessate sulla loro applicazione, magari stiamo parlando di soldi, magari stiamo parlando di profitto, di interessi e non di manipolazione della mente o di tentativo o di paura che possono essere ceduti i dati sensibili. Lo sappiamo benissimo che nei momenti in cui abbiamo un telefono e ci applichiamo in qualunque social i nostri dati, nemmeno sappiamo dove vadano a finire ed in passato è già capitato di sentir parlare da applicazioni non TikTok ma altre, di trafugamento di dati, di movimentazione di dati senza il nostro consenso. Lo sappiamo tutti e venivano magari dagli Stati Uniti questi problemi. Quindi no, nessun bando, libertà di espressione. Bulli fa parte del contraddittorio Cina-Stati Uniti e se poi sarà così 170 milioni di americani dovranno veramente rinunciare, primo fra tutti anche Biden, che ha comunque l'applicazione TikTok.